Buonanotte ragazzi per il momento di questo nuovo video, io sono in compagnia di MirkoNMK Buonanotte ragazzi, io sono in compagnia di MirkoNMK Perfetto Ok Ok Buona Sapete dove siamo? Dove dove siamo? No Sul video in cui l'audio è andato a fanculo Ecco, perfetto L'Avancia ha fatto sto gioco ma lo rifaremo perché è comunque bello farire Marder Inizia benissimo Marder Ah, Marder Questo è proprio In pratica bisogna scappare da quello che dici Siamo un po' dove è Matteo Suvare Dove è Matteo la sua spinta? Sì Sì, sì, certo Ho già detto sì Non è mai che sono l'assassino Sì, muori Mi pare che sono l'assassino Sembra che è già ammazzonito Com'è sentato? Eh che adesso dici Come sei andato? Grazie Ma sei andato qua Vieni qui Uh, è questo qua l'assassino Qu'è questo qua l'assassino? No Mi ha ucciso Sì Eh Uno con i capelli Barroncini E la maglietta nera Che si chiama Us 2006 Comunque è il coltello in mano Quindi lo vedi Oh c'è la pistola a terra Dove? Eh Cosa hai visto? Ecco L'ha presa una L'ha presa una Sì Grande l'ha ucciso Ai Così Il primo che si fa la vince Solo che ho vinto Solo 300 XP Perché non sono morto E cioè con loro forse 4 Io mi siedo Quanto che mi ha rubato il posto No Ti dici No Ti ho mai capito Non mi prenderai mai Oh Terilo dietro Terilo dietro No 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 RACE TO THE FINISH BUT WATCH YOUR SEVERE FORE Bisogna correre fino alla fine È la cara signori La cara Quindi 3 2 Perché parte sempre dietro 2 1 3 Ecc Che roblox Sì vabbè Poi Quanta gente Guarda Come primo No Mi ha lanciato giù Non ci credo Dai ragazzi Mi ha lanciato giù Ma non vale Ma son partito All'incontrario Dai Sono utili Ho visto che rido Sì sì Ma l'ultimo quanto me L'ho spinto giù Sessione Sessione Oh Oh Senza toccare neanche la parete Pissà sei già lì Entiamo No No Non ci credo Sono un bambolo Eh vabbè Mi sa che non ancora finisco io Sì è perché son caduti tu No No Ancchio Dai No Ancchio No Ancchio No No Ma non ci credo Ma come fanno ad andare più noci di me Guarda che adesso cadono tutti Dai Dai Cadete tutti Cos'è che sei Quello lì dei cubi Oh grande Lui ti è recuperato Sono anch'io in questo qua Dai Batti due palle Non lo fa così Grande Ho superato Matteo Alla fine Ah no Ma te la davanti Non l'ho sopprata per niente Già No Già Quarta posizione Che fallo No Perché mi hai rimbalzato Sei scemo Devo essere primo Settivo 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 Sì è vero Matteo potete essere prima Era prima con tutta la carta Sto cadendo Mirko Aiuto No Non cadere Sei caduto Dai Non sei un babbo Cos'è Ready Io inquadro sempre alla finestra Perché potrebbe essere 10 mili giochi Perfetto Ah sì ci sono i piccolini che si devono nascondere E gli altri con lo sprite che devono provare Vediamo se Matteo per una volta fare il piccolino Dai Dovevi essere piccolo Sì No Anche io sono un piccolo Sì Oh quanto salta Salta un po' Non so dove andare Sì sono spawnato fuori Che schifo è E dove sei? Eh No Qua è troppo banale Troppo banale Vediamo qua Non so perché ho detto presentini Vediamo Matteo Ah no Non si può vedere Non so se c'è qualcuno vicino a me Un minuto e mezzo Mi devo aspettare Oddio Quanti sono vicini E arriva qualcuno E dice Ok Ok Quattro bugs Dai Noi due ci siamo Dai Tre Noi due ci rimaniamo solo io e Matteo Dai che ancora non mi hanno provato Dai 40 secondi Non sono neanche vicini Oddio no Oddio Che fortuna Teo non sei la fortuna Era davanti a Bergoglio lì 30 secondi Mirko Io sono una cucina Comunque questa qua è proprio la mappa Del gioco lì Gary's mod Dai siamo rimasti salite Dai 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 9 8 No 7 No Che fortuna Che culo Che culo Che culo Troppo forti Va Rivello 7 Ma ti ci Ma ti la festa Rivello 7 Sali qua Bello Bello No Che schifo Lo so Fa schifo Infatti Samurai La Rai Samurai 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 Ah 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 Perire Sono già arrivato Io non adesso ti disintegro Non mai tranquillo No Come hai fatto E direi ancora su No Ah Aiz Pem Pem Aia Pem Aia E ti fai Pem 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 No vabbè Ma guarda Mi mandano sempre fuori Sempre Ma sempre Ma incredibile Dai dai Almeno terzo Almeno terzo Almeno Pem No Mi hanno già superato Lo c'è Spataclunch Io sono sopra Oddio No voglio vedere se mi danno i punti anche qua Sono sopra tutti Ah sopra so Sì Ma non sul tet Sono sopra ad una rete Boom Guardalo come scende dal cielo Mamma Spatapem Spatapem Pem 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 Spataclunch E vabbè Spatapem Spatapem I a tutti Non mi voglio Pum Spatapum Pum Spatapem Pum Pum Via Matteo Pum Vai tiralo via col Matteo Pertaclunch Ph Investment Scatapem Pertaclunch Veneno terzo Woo Ahi ah Woo Ah i ah Ancora sopra solo 8 7 6 5 5 4 3 2 8 come recuperato matteo 450 o spingimi ragazzi bisogna sopravvivere bisogna mettersi il colore che sta esatto adesso vedete vedete dai il quale dai di già ma dai o ma questi che non si sposta no non male non male ma non male ma va levele mavare mai 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 mamma 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 non vogliono mai sti qua oddio fermi, fermi mamma mia m***a quanto gudevo se morivi e perchè mi lagga anche, non potete morire si ma vieni, va bene ma dove ho volato no ti voglio centrarmi, si vede sul grigio è un babbo se finiva sui cosi neri che c***o stai somebody wants barare come questo qui allora che ormai quando sei ultimo faccio ecco l'ho detto grande così sono molti tutti vediamo in che classifica siamo a livello giusto, effetto 3 in corte il coro, non farti mettere più di te e non so oh no, no, faccio apposta mi fai finire, mamma mia guarda secondo me adesso esce lo jombo la rana gigante te lo dico io, non sto scherzando esce la rana gigante nooo clicca uno e uno bravo sei vagata i miei sono fortissimi i nostri non stanno già facendo niente sono fortissimi dai muori ho occhie che mi ha spinto occhie arriva contro le aree non ci credo mi tirano via tutta la vita dai mi sa che finirà in pareggio mi sento un po' forte anche a difendere tutto il giorno mastica muore mai ok l'ho disintegrato ormai difendiamo non puntiamo a vincere difendiamo e basta siamo in pareggio perché sono fortissimi vai oh sto scherzando puntiamo avanti dai andate spavano fammi tankare a me vai la rimonta signori la rimonta no sono morto io cazzo anch'io no ero dentro io ero proprio fuori mi spasso anche la colonna che proteggeri dai vai aspetta oh oh sono troppi sono troppi sono troppi io vado dentro a difendere mi dico se stanno arrivando occhio se arrivano quello di miero scusate devo evitare ok ok da un marito no pari prova almeno l'abbiamo perso ok leg d no le gambe che volo gambe adesso no bellissimo la cosa più ignorante che c'è ragazzi un gioco più ignorante ma più ignorante che ci sia cioè sicuramente più che un peso no 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 e vabbè e vabbè e vabbè e vabbè no 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 aiuto ma sono spawnato morto dai ma mi fate andare avanti non mi fanno partire dai ma non ci non so credo non non riesco a partire no no ok buono vai 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 sì no vai vai oh sì sesto e non so pensi di essere arrivato prima poi il ultimo dai almeno è arrivato mi ha spinto un altro mi ha spinto un altro dai che pizza o ma guarda poi dove spavano io c'è da solo tutto di me vai 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 racconto c'è questo ha messo il mosso maya l'oleno è stata un colpito guarda quello li o eccola partito ecco a punto dato note no è un altro uno è morto guarda Matteo arrivato 0 53 secondi 475 è finito è di andare quindi noi ci vediamo il prossimo video prossimo esattamente ok vai giusto ciao